Quanto dura una recessione? Quanto dura una crisi finanziaria? Bene, ciao a tutti! Bentornati in questo nuovo video, sono Mauro Caimi. Oggi andiamo a guardare che cosa ci dice la storia, che cosa ci dice il passato sulle crisi finanziarie. Quanto durano e che consistenza hanno. Stiamo andando a cercare di valutare quella che è l'attuale crisi finanziaria per capire dove potrà finire, quanto tempo ci metterà e soprattutto quanta strada deve ancora fare. In questo video oggi rispondiamo a questa domanda. Ho preparato per voi un grafico, come sempre, per farvi vedere in maniera visiva e toccare anche con mano, virtualmente parlando perché ragazzi non possiamo stare a contatto, toccare con mano quella che sono state le crisi finanziarie nella storia del mondo negli ultimi più o meno 100 anni. Andremo a prendere come riferimento il nostro indice faro mondiale dell'economia, lo Standard & Poor's 500 americano, l'indice delle 500 aziende più capitalizzate al mondo. Ma prima di andare a vedere il grafico che ho preparato per voi, ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto di tirar su un pollice per questi video perché mi aiutate con l'algoritmo di YouTube. Poi vorrei anche la vostra opinione ragazzi su tutto quello che andremo a vedere in questo video. Scrivetelo nei commenti. Eccoci davanti al grafico. Standard & Poor's 500 nella storia del mondo ragazzi. Abbiamo davanti tutte le crisi finanziarie, quelle più importanti. Andiamo direttamente al grafico del 1929 ragazzi. Analizziamo questa che è stata la crisi più profonda degli Stati Uniti d'America ma poi ha influenzato anche il mondo, quella del post-dopoguerra del 1918. Cosa è successo nel 1929? Andiamo a vedere due tipi di indicatori. Uno è inerente a quello che è l'estensione del movimento ragazzi tra un massimo che è questo punto qui e un minimo che è questo punto qui. Non vedete un grafico a candele ragazzi perché siamo di 100 anni indietro e nei dati i trading view non sono presenti i massimi e i minimi ovviamente ragazzi ma soltanto le chiusure del giorno. Lo Standard & Poor's 500 nel 1929 ad agosto quando ci fu il famoso massimo di quel periodo quotava la bellezza di 30 punti ragazzi contro i 3.004 toccati poco fa 30 punti e arrivò poi nel giugno del 32 ragazzi a un minimo di 4.77 punti. Quanto è stata intanto l'estensione? L'estensione tra un massimo ed un minimo è stata di meno 84-85% circa ragazzi non ho fatto i calcoli precisi e al dettaglio perché è assolutamente insignificante quindi il collasso del mercato in questa fase di recessione la più profonda forse della storia economica del mondo è stato di meno 85 circa punti percentuali tra un massimo e un minimo e quanto è durato? Andiamo a guardare il secondo degli indicatori che guarderemo in tutta questa analisi che è il tempo ragazzi quanto tempo è durato? e quindi 1035 giorni ragazzi è durata un sacco tre anni circa ragazzi questa crisi e in questi tre anni lo standard del Pulse 500 ha perso l'85% postiamoci più in lì e andiamo a vedere invece le crisi successive quelle dopo il boom economico avuto dopo la ripresa degli anni 20 c'è stata la crisi del 1970 quella che per molti ha definito il passaggio da un'era a un'altra era quella un po' più moderna quella un po' più globalizzata come quella che stiamo vedendo adesso la crisi energetica con l'impennata dei prezzi del petrolio solita analisi andiamo a guardare una riduzione di meno 50 punti percentuali per quanto riguarda il massimo e il minimo dell'SP500 e tempisticamente è più corta dura circa due anni un po' meno di due anni 638 giorni questa era una crisi ragazzi di natura inflazionistica uno shock del petrolio quindi un petrolio che aumentava facendo impennare l'inflazione in costo dei prodotti e questa è stata una crisi abbastanza famosa nella storia del mondo passiamo avanti a quella che invece è una crisi che io adoro da un punto di vista intellettivo ovviamente le crisi non sono mai belle ma la crisi del 1987 ragazzi è fantastica perché è una crisi senza senso cioè è una crisi che in sostanza è uscita fuori per un motivo ben preciso da poco, insomma negli ultimi anni vicino al 287 avevano iniziato a inventare questi stop loss automatizzati e con le macchine quindi i primi computer, i primi calcolatori del tempo si iniziava ad utilizzare la tecnologia dello stop loss bene, tutti questi stop loss ragazzi scattarono in questo mese dell'ottobre dell'87 causando questo ribasso il famoso lunedì in nero poi tutto avvenne diciamo più o meno all'interno di un'unica giornata il famoso lunedì in nero di Wall Street e di tutto il mondo nel 1987 fu una crisi senza senso emotiva causata probabilmente da questo problema informatico perché erano le prime volte che si usava questo tipo di tecnologia quanti danni ha fatto? meno 35 meno 36% 35,97 qui è segnato quindi intorno al 35% ragazzi vedete è durata pochissimo solo due mesi perché? perché non c'era niente dietro di economico non era una vera crisi questa ragazzi era stata semplicemente uno shock emotivo che aveva causato questo ribasso quindi io escluderei l'attuale momento con un paragone con questa crisi andiamo avanti la crisi molto forte poi l'abbiamo avuta nel 2000 la famosa crisi della bolla di internet iniziata nel marzo del 2000 è finita nell'ottobre del 2002 allora ancora una volta quanti danni ha fatto questa crisi? 50 punti percentuali di ribasso tra il punto di massimo e il punto di minimo circa 944 giorni ragazzi due anni e mezzo circa questa è stata una delle crisi che ha un po' scioccato il mondo perché venivamo anche da un rialzo stratosferico perché dopo il famoso 1987 il mondo ha conosciuto la più grande fase di crescita guardate qui ragazzi della storia dei mercati finanziari gigantesca prima di quella che abbiamo avuto noi negli ultimi dieci anni in ogni caso ragazzi la bolla di internet scoppiò e fece questo crash dopodiché ci fu una leggera ripresa fino al crash della crisi immobiliare del 2008 questa crisi è la seconda dopo quella del 29 come intensità meno 58% ragazzi in 518 giorni la crisi relativa ai subprime la bolla immobiliare è durata un po' poco quindi tutto sommato la velocità con cui il mercato è sceso è stata veramente immediata quindi molto veloce il mercato è sceso in maniera molto veloce dopo una prima fase vedete qui di ribasso aveva provato a riprendersi e poi è crashato definitivamente questo dopo Lehman ragazzi perché qui siamo ai primi fallimenti quindi qui c'era stata solo un'avvisaglia del problema da qui in poi poi ci sono stati i fallimenti delle banche americane anche questa crisi potrebbe essere presa come esempio per l'attuale situazione arriviamo all'oggi ragazzi per questa crisi che ho chiamato Corona Crisis ma ovviamente in maniera scherzosa ancora in corso dove siamo in questo momento ragazzi in questo momento l'SP500 ha fatto meno 36% di estensione tra un punto di massimo e un punto di minimo la durata però è quella che ci interessa di più in questo momento sono solo 28 giorni è finita questa crisi andiamo a cercare di rispondere a questa domanda ragazzi abbiamo visto quanto dura una crisi in media non abbiamo nessun dato al di sotto di circa un anno e mezzo due ragazzi perché vedete questa crisi del lunedì in nero di Wall Street io la escluderei perché è stata una crisi di natura emotiva invece qui abbiamo una crisi che non è di volatilità emotiva bensì è un problema proprio strutturale dell'economia andiamo a rapportarla a quelle che sono le altre crisi cioè quelle che hanno effettivamente avuto un impatto molto forte sull'economia e parlo quindi ragazzi tra la crisi immobiliare quella che conosciamo bene nel 2008 la bolla di internet e poi escluderei questa ragazzi perché questa era una crisi da inflazione in questo caso è il contrario quindi si sta cercando di inflazionare il mercato e poi riprendiamo la famosa crisi del 29 quanta strada ancora dobbiamo fare in termini di estensione per dire che in media siamo vicini a quella che è la differenza fra un massimo e un minimo ragazzi qui andiamo tra un minimo di meno 50% a un massimo l'abbiamo visto prima di meno 85 se andiamo a mettere su questo tipo di dato sull'S&P 500 vediamo ragazzi che l'estensione di meno 50 che in teoria dovrebbe essere il livello minimo da raggiungere perché sia considerata una crisi finanziaria al pari delle altre ragazzi più o meno 1700 punti o un'estensione terribile ovviamente come quella del 29 a un meno 85 ragazzi che sarebbe 500 punti potremmo avere questo tipo di andamento ragazzi con una situazione più normale di crisi più normale più accettabile qualcosa che abbiamo già affrontato nei precedenti anni ma se le cose girano proprio male ragazzi potremmo avere addirittura questo tipo di atteggiamento mi duole dirlo ragazzi sarebbe qualcosa di scioccante quanto tempo potrebbe volerci per fare il punto di questa crisi per concludere questa crisi beh ragazzi abbiamo visto che la crisi più veloce rispetto a quelle che stiamo prendendo in considerazione è durata un anno e mezzo quasi due anni ragazzi ritengo questa crisi per quanto riguarda il tempo quella più da prendere in considerazione perché quella del 29 ragazzi ovviamente tutto era molto più lento rispetto adesso quindi noi adesso siamo molto più veloci nell'affrontare le cose avete visto le emissioni di liquidità delle banche centrali tutto il mondo che si sta mobilitando quindi in sostanza escluderei le tempistiche di tre anni della crisi del 29 mentre andrei a valutare questa crisi qua ragazzi ma comunque parliamo di 500 giorni circa un anno più o meno ragazzi a luglio del 2021 questi sono i due livelli di prezzo che il mercato potrebbe raggiungere quello minimo in sostanza per definirla una crisi accettabile rispetto alle precedenti sempre parliamo che è qui ragazzi oppure qui addirittura in basso come crisi proprio la peggiore della storia del mondo abbiamo avuto un range ragazzi come sempre inutile fare previsioni di natura al dettaglio su queste cose bensì ragioniamo sui range probabilmente la soluzione più comune è che il mercato tenderà a fare una cosa del genere va bene ragazzi quindi a finire all'interno di questi due spazi io spero dove magari in un bel pullback dei due massimi precedenti che sono circa intorno ai 1500 saranno vere queste previsioni faccio alcuni appunti e vi do la mia opinione per quanto riguarda l'estensione ragazzi forse è la cosa più accettabile possiamo dire che l'estensione di prezzo è un meno 50 in una crisi di questo tipo potrebbe essere anche accettabile mettiamo però in conto ragazzi che nelle crisi precedenti soprattutto quelle molto vecchie come il 29 le nostre istituzioni finanziarie non erano all'altezza della situazione come sono adesso quindi non riuscivano ad affrontare le crisi come hanno affrontato nelle ultime volte diciamo queste cose perciò ragazzi prendiamo le colle pinze questo tipo di indicazioni perché ovviamente il meno 85% dei mercati del 1929 difficilmente sarà una percentuale raggiungibile nel mondo moderno perché le banche centrali i sistemi finanziari sono più coesi sono più moderni sono più in grado di affrontare una crisi di questa entità mettendo i tappi mettendo i freni e cercando di ricreare il processo economico con maggiore velocità anche il tempo che avremo davanti per lo svolgersi di questa crisi probabilmente ragazzi sarà accorciato mi riferisco anche al fatto che come vedete fra la crisi del 2000 e la crisi del 2008 la distanza temporale è di circa la metà ragazzi perché il mercato è andato giù più velocemente però è anche vero che con tutte le istituzioni finanziarie che operavano per rimettere su tutte le cose a posto il tempo è stato estremamente ridotto ragazzi quindi è possibile anche che questa crisi vada a definirsi magari non in un anno e mezzo ma anche in 7-8 mesi perché magari riusciremo a uscirne in maniera più veloce quindi cerchiamo di essere positivi bene vi ho dato la mia opinione per quello che riguarda questo momento attuale vorrei sapere cosa ne pensate voi una crisi quanto dura in media lo abbiamo visto ma questa crisi quanto durerà secondo voi e che spazio percorrerà l'indice S&P 500 per trovare il suo bottom bene ragazzi abbiamo concluso iscrivetevi se ancora non l'avete fatto come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao